Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un caloso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori La Nazionale Italiana è pronta a scendere in campo questa sera alle 20.45 contro la Polonia per la prima sfida a tre punti delle Ramancini L'appuntamento è con la Nation League e i Viola convocati dall'ex tecnico di Inter e Manchester City Sono ben tre, Benassi, Biraghe e Chiesa che proveranno a strappare i compagni una maglia da titolare Non solo la BBC Viola in campo con le nazionali questa sera Ci saranno altri quattro calciatori della Fiorentina impegnate con le proprie nazioni Milenkovic con la sua Serbia sfiderà la Lituania Mentre Simeone e Pezzeli e il nottato affronteranno il Guatemala in amichevole con l'Argentina Impegno ufficiale anche per Dragoschi che alle 18 con la Polonia Under 21 sfiderà le isole Faroer per le qualificazioni a Euro 2019 Infine la Fiorentina si unisce ai messaggi di auguri per i 125 anni del Genova Prima storica società di calcio italiana fondata nel lontano 1893 Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola